E' stata produttiva la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera che, all'unanimità, ha approvato due atti di indirizzo. Il primo, presentato dal consigliere di opposizione Antonella Santonoceto del gruppo Giarre 2.0, impegna l'amministrazione ad attivarsi per partecipare al bando Sport Missione Comune al fine di ottenere finanziamenti per lo stadio di Via Olimpia e per il campo sportivo di San Giovanni Montebello. Il bando scade il 5 novembre e il Comune ha pronto solo un progetto esecutivo riguardante lo stadio di Via Olimpia. Il secondo atto di indirizzo è stato presentato dal consigliere Maurizio Arena e invita l'amministrazione ad ottenere la disponibilità del Presidente del Tribunale per usufruire di ulteriori spazi nell'ex Tribunale di Corso Europa, dove potere allocare altri uffici. Interessanti anche le interrogazioni a partire da quelle proposte dai consiglieri Leo Pataneggi annunzio Musumeci riguardante una delibera di giunta in cui l'amministrazione chiede ad una ditta se è ancora interessata di investire a Giarre per realizzare un importante progetto di finanza. Il Comune riceverebbe gratuitamente la realizzazione di 9,5 km di nuova condotta idrica, la ristrutturazione dei suoi serbatoi e la sostituzione delle pompe di sollevamento. In cambio, la ditta installerebbe delle turbine per produrre energia elettrica. Pataneggi e Musumeci hanno chiesto perché non si è reso pubblico questo progetto e non se ne è ancora parlato in consiglio. Il sindaco ha spiegato che al momento la giunta ha solo chiesto alla ditta di manifestare se è ancora interessata a investire a Giarre. La giunta incontrerà la ditta e saranno quindi coinvolti il consiglio e la cittadinanza. Vittorio Valenti ha poi posto l'attenzione su un altro problema che riguarda gli alunni del secondo istituto comprensivo che non possono usare la palestra di via Rosolino Pilo. regolarmente usata da società sportive nel pomeriggio. Leo Pataneg ha poi chiesto chiarimenti sull'opposizione presentata da un cittadino contro la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio e denunciato l'irregolarità di alcuni incarichi legali affidati tramite determini sindacali prive di impegno contabile. E inoltre ha anche denunciato gli errori nello schema di bilancio che espongono l'amministrazione al ridicolo e che dovrebbero portare la stessa giunta a dotarsi di ulteriori esperti finanziari piuttosto che di esperti in segreteria. Il riferimento è all'incarico affidato dal sindaco alla cugina nonché segretario politico di Città Viva Sara Giuffrida. Dan ha risposto che se i professionisti che l'hanno preceduto hanno ridotto il comune nello stato in cui si trova, meglio essere dei dilettanti che come unica ambizione hanno quella di migliorarsi. Grazie.